Napoli morto a 18 anni, l'ipotesi dell'incidente. Arcangelo Correra, centrato alla testa da un proiettile, stava maneggiando la pistola dalla quale è partito il colpo che l'ha ucciso. Questa è la versione raccontata dai due giovani che erano con lui, agli agenti della squadra mobile. La società civile in piazza, Napoli troppe armi, l'iniziativa promossa da Libera, disarmiamo la città, il monito dei manifestanti. Da Gigi D'Alessio a Saviano, appello ai giovani a rifiutare la violenza, l'emergenza, criminalità, infiamma anche lo scontro politico. L'omicidio vassallo, Cagnazzo resta in silenzio, primi interrogatori a Salerno per le indagini sulla morte del sindaco Pescatore. Il colonnello dei carabinieri non risponde al GIP. L'imprenditore cipreano respinge le accuse, sono innocente. I familiari, il sindaco di Pollica, si diventa. Avellino scontro politico sul rimpasto in giunta. Laura Nargi apre l'ipotesi di sostituire i tecnici in giunta con i consiglieri eletti. Tensione con patto civico di Genovese. Gengaro all'attacco, l'avvicendamento in amministrazione, frutto delle pressioni di festa. Ecco, sannio da gustare, la sfida di Confindustria, le eccellenze agroalimentari della provincia di Benevento in un unico marchio. Via all'iniziativa promossa dagli imprenditori, i prodotti del territorio sbarcano nella grande distribuzione. L'obiettivo è puntare sulla qualità. E questi titoli di stasera ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura, le prime ipotesi sull'omicidio del giovane Arcangelo Correra. Due amici del diciottenne interrogati in questura, secondo la loro versione dei fatti, il colpo che ha ucciso il ragazzo sarebbe partito per errore, mentre uno di loro maneggiava una pistola. Sentiamo i dettagli. Un terribile gioco finito male, è quanto ipotizzano gli investigatori in merito alla morte di Arcangelo Correra. Il diciottenne è morto questa mattina presso l'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dopo essere rimasto ferito alla testa da un colpo di pistola. La tragedia si è consumata in via dei tribunali. La pallottola, che lo ha accentrato alla fronte, sarebbe partita per errore, mentre uno dei giovanissimi che si trovava con lui stava maneggiando una pistola. La versione era già circolata questa mattina tra i conoscenti. L'avrebbero poi ripetuta negli uffici della squadra mobile i due ragazzi, amici della vittima, portati in questura per essere ascoltati e ritenuti connessi all'omicidio. In particolare, uno di loro avrebbe ammesso la colpa, specificando però che si sarebbe trattato di un incidente. Il racconto, fornito dai due giovani agli investigatori, sarà ovviamente vagliato. Alla ricerca di riscontri dagli investigatori della squadra mobile di Napoli, guidata da Giovanni Leuci. Arcangelo è rimasto ferito poco prima delle 5 in Piazzetta Sedil Capuano, poi è stato portato d'urgenza all'ospedale Pellegrini, dove è arrivato in condizioni disperate. Il decesso, intorno alle 11. È stato colpito da una singola pallottola, che lo ha raggiunto alla testa provocandogli una grave emorragia cerebrale. Sul luogo dei fatti questa mattina vi era almeno un proiettile non esploso, intanto i parenti del 18enne negano con forza ogni appartenenza a qualsivoglia sodalizio criminale, ma la vittima risulta cugino di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto durante un tentativo di rapina nel 2020. E le associazioni sono scese in piazza, oggi per dire stop alla mattanza dei giovani. A Napoli circolano troppe armi, vediamo. Emanuele Tufano aveva 15 anni, Santo Romano 19, oggi la terza giovane vittima, Arcangelo Correa, 18 anni. Una mattanza senza fine. La violenza che miete vittime così giovani non è più solo un fenomeno, ma un allarme sociale che deve investire tutti. 300 persone sono scese in piazza questa mattina. Liberiamo Napoli dalle violenze è il titolo dell'Assemblea pubblica promossa da Libera Campania. In piazza, associazioni antica morra, sindacati e cooperative sociali. C'è un'urgenza che talvolta non corrisponde ai tempi della politica, ai tempi anche nostri di riorganizzarci. Quindi dobbiamo iniziare anche a capire come trovare soluzioni e come agire subito affinché fenomeni come questi non avvengano più tra i ragazzi e le ragazze della nostra città. La diffusione di armi nelle mani dei ragazzi è prima di tutto un problema di ordine pubblico, come ha sottolineato il sindaco Manfredi, ma serve uno sforzo maggiore sull'inclusione sociale e sull'educazione. Anche il giudice Catello Maresca invoca l'intervento del governo, la questione giovanile a Napoli ha detto è più grave di quella di Caivano. Tante le reazioni sui social, spicca il messaggio di Geolier, terra mia, il tuo popolo ti sta umiliando a colpi di pistola. Ma anche Gigi D'Alessio, rivolto alle famiglie, fate capire ai vostri figli che valore ha la vita. Durissimo il commento di Roberto Saviano in un video attacca il governo. Sono le regole di questo mondo, che in alcune parti, che in alcune periferie e in situazioni di miseria, si raggiungono con una pistola, si raggiungono morendo a 14 anni, a 15 anni, ammazzando e venendo uccisi. Questo è il nostro tempo e nessuna politica ve ne parlerà. Il governo su questo non farà null'altro che parlare di repressione, di invitare la polizia ad arrestare tutti. Come vedete tacciano tutti. E arriva anche il messaggio del prete anticamorra Don Patriciello ai ragazzi. Dice via le armi, amate la vita. Dobbiamo aiutare questi ragazzi, non ha dubbio Don Maurizio Patriciello. Il prete anticamorra oggi a Benevento ha inaugurato il corso di formazione socioculturale promosso dall'Associazione Res Pubblica Minuizzo, richiamando i recenti episodi di violenza tra i giovanissimi. A me viene una paura veramente in questi ultimi tempi. Sembra che questi ragazzi non amino la vita, ma sembra una cosa impressionante. Sembra che non sappiano più ragionare, ma neanche più litigare, perché tutti quanti noi abbiamo litigato. Uno spintone tutti quanti noi abbiamo dato. Questi subito arrivano alle armi e quindi la domanda, ma queste armi dove le hanno prese? Ma gli adulti dove stavano? C'è poco da fare. Gli adulti sono stati loro a dargli le armi nelle mani. La strada da percorrere allora è quella per invertire la rotta. La volontà è quella di imbastire un dialogo con i giovani. Un percorso in cui la politica ha un ruolo fondamentale. Pavolo VI diceva che la politica è la più alta forma di carità. E io ci credo terribilmente. Un progetto in cui bisogna procedere uniti. Forse veramente la parola insieme è diventata la parola magica. L'unica cosa da fare è solamente questa, stare insieme. Quando per orgoglio, per superbia, oppure ancora di più, perché ognuno ha poi i propri scheltri nell'armatio, diciamoci la verità, ognuno non vuole che l'altro sappia e si chiude nel suo castello, quello è l'inizio della fine. Qualche volta troppo spesso ci chiudiamo ognuno nel proprio guscio. E quando non c'è stata comunicazione, quando non c'è stata comunione, poi ognuno va per conto suo. Ora l'omicidio Vassallo. Oggi i primi interrogatori di garanzia. Il colonnello Cagnazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo i dettagli. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee nel corso dell'interrogatorio di garanzia il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, tra i quattro arrestati dalla procura di Salerno per l'omicidio volontario del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, commesso, secondo gli inquirenti, per coprire un traffico di droga tra Napoli e Acciaroli. Un silenzio già preannunciato dall'avvocato dell'ufficiale, ricoverato all'ospedale militare di Roma, illegale e acchiarito che presenterà appello al riesame. Lunedì saranno ascoltati dai magistrati anche l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi, detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capuavetere, e il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Intanto, nella mattinata di sabato, la cittadella giudiziaria di Salerno è stato sentito dal GIP Giuseppe Cipriano, l'imprenditore di Scafati, ha ribadito la sua estraneità ai fatti. Cipriani ha risposto a tutte le domande del magistrato e del pubblico ministero, ma cosa che aveva già fatto nel 2018, grosso modo, su contestazioni analoghe. Il problema è che credo ci sia un movente debole. In questo processo non è stato neanche individuato il soggetto, l'esecutore materiale della vicenda. Trattandosi di un processo quasi esclusivamente fondato su una prova dichiarativa, tutto poi diventa oggetto di analisi. Allora, quando si è trattato di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, che poi si è rivelato poco attendibile o quasi pendiente attendibile. L'avvocato ha chiarito poi i prossimi passi della difesa. È chiaro che faremo riesare, ritenendo appunto che ci sono degli spazi difensivi molto molto ampi. In queste ore la Fondazione Vassallo in una nota ha chiesto le dimissioni immediate del primo cittadino di Pollica Stefano Pisani, denunciando una serie di gravi atti per cancellare la memoria del sindaco pescatore. Ad Avellino il sindaco Laura Nargi annuncia il rimpasto in giunta, via l'esecutivo tecnico dentro quello politico, ma per l'opposizione è soltanto una manovra per blindare la sua posizione. Sentiamo Paola Iandolo. Il rimpasto ci sarà perché è giusto premiare i consiglieri di maggioranza, grazie ai quali abbiamo vinto le elezioni. Ma è falso dire che Festa stia facendo pressioni per questo. Laura Nargi commenta così, Le voci circa un imminente cambio di guardia tra la giunta tecnica e quella politica a trazione frestiana. Ho sempre detto che la giunta tecnica avrebbe caratterizzato un primo tempo e che le sarebbe succeduta una giunta politica. Ed è giusto così perché i consiglieri che siedono tra i banchi della maggioranza sono quelli che hanno permesso a questa amministrazione di vincere le elezioni e portare avanti il progetto per la città. Un tentativo, quella della Nargi, di voler ricomporre il gruppo festiano, ma secondo l'opposizione invece è un modo per blindare la sua posizione. Quella della giunta tecnica è stata una trovata per alleggerire un po' la pressione della procura. Nessuno ci aveva mai creduto. Certamente la città è sotto scacco dell'ex sindaco Festa che rivendica la sua parte, sembra Totò al ritorno dalla Russia in letto a tre piazze che si agita per rivendicare i suoi diritti. Non credo che tutto ciò faccia l'interesse della nostra comunità. Le eccellenze agroalimentari sannite riunite in un unico marchio di Confindustria. Sannio da gustare. Sentiamo Fallarino. La filiera agroalimentare sannita sbarca nella grande distribuzione grazie al marchio di Confindustria Benevento, Sannio da gustare, in esposizione nello spazio Conad al centro commerciale Buonvento per tutto il mese di novembre. Promozione delle eccellenze del territorio e degustazione di prodotti tipici. Confindustria Benevento ha dato un'opportunità alle eccellenze del territorio e siamo lieti di parteciparci con la Violetta. Noi siamo produttori di zafferano biologico che coltiviamo nella tenuta di famiglia Vigorito e da lì poi nasce un progetto molto più ampio che comprende tanti prodotti biologici come il pomodoro, lo stesso zafferano, il miele, le composte e le confetture. Noi possiamo dire che facciamo questo da 40 anni e la missione è curarsi con il cibo, un percorso molto molto importante e responsabile. Abbiamo creato una filiera nostra per far sì che abbiamo una buona materia prima. L'obiettivo è quello di favorire la riconoscibilità e la diffusione dei prodotti legati al marchio e quindi al territorio, sinonimo di qualità ed eccellenza. È il modo proprio più diretto di far conoscere i prodotti stando proprio a contatto con i cittadini, con i consumatori e questo è l'inizio di un lungo percorso. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla rete PAC 2000 di Conad che ne ha condiviso le potenzialità. Abbiamo creato una filiera iniziando dalla creazione anche dei prodotti e capire quali erano quelli che potevano andare bene all'interno della grande distribuzione e ad oggi stiamo vedendo i primi risultati. Napoli punta a diventare punto centrale del Mediterraneo per la nautica, non solo per le vendite ma anche dal punto di vista produttivo e questo è uno dei messaggi principali lanciati oggi dagli organizzatori della 38esima edizione del Salone Internazionale Navigare, inaugurato al Molo Luisi a Mergellina. Il presidente dell'Associazione Filiera Italiana della Nautica, Gennaro Amato, promotore dell'evento aperto fino al 17 novembre, ha annunciato che si sta studiando l'ipotesi di unificare in termini di date il Nautic Sud e il Navigare, pur facendole rimanere due entità distinte. Un progetto condiviso anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Torniamo ad Avellino, all'ospedale Moscati e record di interventi high-tech. Sentiamo i dettagli. All'ospedale Moscati di Avellino 350 interventi ad urologia con il robot Da Vinci. Il presidente della Commissione Regionale Sanità, Enzo Alaia, esulta. Risultato straordinario per la sanità irpina. Da soli due anni è stato acquistato da parte del Moscati questo robot che ci ha permesso di fare tutti questi interventi. E sono finalizzati innanzitutto a curare meglio i cittadini, ma anche ad evitare la mobilità passiva. Dopo anni di commissariamento la campagna vede un po' di luce della sanità, ma ora a preoccupare la carenza di medici. Io credo che ci sono grandi prospettive. Dobbiamo continuare su questa opera di risanamento e di miglioramento delle strutture. Purtroppo abbiamo un problema, la mancanza di medici, in modo particolare quei medici di pronto soccorso. Senza contare che l'autonomia differenziata sarebbe un macigno per chi come noi sta provando a risollevarsi. Sarebbe un disastro immane per la sanità, e non solo per la sanità, anche per la scuola e per tanti altri servizi. La cultura adesso presentato a Teggiano, il cartellone di eventi voluto da Antonello De Rosa e da Scena Teatro. Una rassegna che mira a valorizzare uno dei borghi più suggestivi del Vallo di Diano. Filippo Notari. Valorizzare il comune di Teggiano attraverso l'arte del teatro, il progetto realizzato da Antonello De Rosa e da Scena Teatro. Che allestiranno un cartellone di eventi nel borgo medievale della città del Vallo di Diano. Si parte venerdì 29 novembre con lo spettacolo Circe la Donna. Il teatro è uno scrigno straordinario, e la dico tutta, e potrebbe e deve diventare assolutamente una seconda Spoleto, perché ha tutte le caratteristiche per poter promuovere un territorio, ma soprattutto accogliere grande teatro. A rendere ancora più unico il tutto sarà il Castello Macchiaroli, suggestiva location che ospiterà gli spettacoli. Noi come Castello Macchiaroli siamo contentissimi, perché è la destinazione naturale di questo bene, cioè eventi culturali, manifestazioni teatrali, conferenze, e chiaramente anche tanti altri eventi di vario genere. Quindi siamo orgogliotissimi. Il cartellone sarà ulteriormente arricchito da eventi e presentazioni di libri, un modo per promuovere il territorio attraverso la cultura. Nasce una nuova stagione dove i giovani possono curare la loro passione, e che mettiamo a disposizione professionalità, e che questa professionalità va trasferita anche all'interno delle scuole. Questa utenza che arriverà sul territorio apporterà altri visitatori che quindi apporteranno economie e quindi porteranno a casa poi la cultura del territorio. E va bene, ci fermiamo qui per stasera. Vi ricordo, dopo di me, Offside Benevento. A proposito di Picerno Benevento, grazie in regia a Enrico Coppola. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.